Capral, ma in pa, interviene Capral, velocissimo, a rubare il tempo ai difensori del Venezia. Altra grande palla goal per la Fiorentina. Lancio lungo, bello per Joe Pedro, che può avanzare. Joe Pedro, Joe Pedro in aria, ancora Joe Pedro, consigli, grande chance per raddoppiare per il Cagliari. Sassolo se ne accade egregiamente in fase difensiva, anche questa volta. Attenzione alla ripartenza dell'Atalanta con Malinoski dentro per Sabata. Il suo controllo sale colombiano ancora dentro per Malinoski in aria di rigore uguale sinistro. Malinoski, Montipò, calcio d'angolo. Parte di nuovo, Cataldi non esce Berisha, il pallone rimane lì. Milinkovic, arriva Berisha e poi Immobile. Calcia largo. Milinkovic con il colpo da biliardo, arriva a due mani Berisha. Gautamense, parte l'attraversione, palla a centro aria. Miracolo di Maglian che toglie il pallone dalla rete. Ci aveva provato Ernani. Allora Faraoni, Simeone, lascia correre il pallone e poi lo controlla in aria. Balla rimorchio, Caprari. Il tocco per Ceccherini che va da Barak come gioca il Verona. E poi Busso che respita sull'Azavis. Non è finita. Il cross per Simeone. Esterno della rete.